Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 6 maggio. Vediamo subito quali sono le informazioni principali sui giornali di oggi. Vi dico soltanto che ce ne sono due o tre piuttosto interessanti. Intanto, economia scontro nel governo. Questo è il titolo che fa il Corriere della Sera, mentre il resto del mondo del giornale unico di Conte, insomma, mi sembra che di questa cosa se ne accorga poco, perché in realtà, come spiega bene Verderami, che cosa sta succedendo all'interno del governo? L'abbiamo già capito a Quarta Repubblica la settimana scorsa, lunedì scorso, è passato soltanto due giorni. Verderami dice che all'interno del governo ci sono due anime, quella assistenzialista del Movimento 5 Stelle, tipicamente di una parte del PD, e quella invece produttivista, che è di una parte di qualche rarissimo esponente del Movimento 5 Stelle e soprattutto dei Renziani. Cioè, come far riprendere l'economia? È molto semplice, diamo incentivi a tutti, redditi di emergenza, allarghiamo il reddito di cittadinanza, che sono i grandi temi su cui si discute, oppure cerchiamo di rendere le imprese più forti per permettere loro di assumere e di continuare a produrre ricchezze in questo paese? Voi immaginate quale sia la mia risposta, ma quanto sia il dibattito all'interno del governo. Il Cavaliere, che oggi fa un'intervista al giornale, sembra sposare, diciamo, e fare da alimentatore di questa parte renzian, moderata, produttivista, dice, altro che più Stato nel governo, ce ne dovrebbe nel mercato, dobbiamo essere più liberali, più liberisti. Nel frattempo, nelle ultime ore, si è inserita una cosa che i giornalici hanno soltanto nel retroscena, ma che sta portando a una grande battaglia all'interno del governo, cioè sulla regolarizzazione dei 600 mila lavoratori per le campagne, che vuole il ministro Renziano dell'Agricoltura, Bellanova, che in realtà una parte del Movimento 5 Stelle non vuole, ancorato, diciamo, al suo primigenio atteggiamento nei confronti dell'immigrazione, è, insomma, però la Bellanova, nelle ultime ore, sta dando segni di requietezza sempre più comprensibile, dicendo, qua io mi posso dimettere, e diventano casini. In questo scenario incredibile del governo diviso tra produttivisti e, diciamo, e assistenzialisti, c'è un'intervista a Conte che ovviamente rilascia al giornale della Casa, un po' come il rilascia l'intervista al giornale, così Conte la rilascia al Fatto Quotidiano. La cosa stupenda è che il decreto di aprile, che doveva uscire aprile e che uscirà maggio e che doveva uscire giovedì e che non è detto che esca giovedì, domanda a schiena dritta di Travaglio. È stupendo perché quando metti Travaglio a intervistare, come si chiama, il suo Presidente del Consiglio, oppure Buonafede, oppure prima di Maio, insomma, i suoi cocchi, vedete che l'uomo dalla schiena dritta diventa, come direbbe lui, un cagnolino, come si può dire, che fa con la codina così quanto sente Conte. È imbarazzante. Leggete l'intervista di Travaglio perché chiunque conosca Travaglio dice, ma scusa, ma come è possibile che sei così cattivo con tutti? Sei uno che riesce a scrivere Bertolaso, uno che doveva arrivare a costruire 100 letti, invece ne ha occupato uno. Ecco, questo stronzaggine di Travaglio, perché non la usa minimamente con Conte? Per esempio, la prima domanda riguarda questo decreto che doveva arrivare e che non è arrivato, anche un bambino piccolo questa domanda l'avrebbe fatta il Presidente del Consiglio, perché siamo tutti qua che aspettiamo il decreto. Sapete che cosa risponde il Presidente del Consiglio? È colpa dell'Europa, vi giuro, perché stanno rifacendo la struttura degli aiuti europei, la Vestager, eccetera, e quindi per quello non è arrivato, perché aspettiamo che finisca questa struttura per farla arrivare. E quello zitto, muto, ci crede. Poi, ma stupendo, perché, chiede, i prestiti arrivano con tanta lentezza alle imprese? Ma dice, sa, quelli fino a 25 mila euro hanno una maggiore speditezza e per gli altri il problema è sempre di un'altra cosa, cioè che manca lo scudo penale per le banche, lui aveva chiesto il gesto d'amore, ma in realtà lo scudo penale per le banche chi lo deve fare? Conte, non è che lo deve fare Babbo Natale. Quindi lui risponde dicendo che lui ha una deficienza nel non aver fatto una legge che prevede lo scudo penale, e poi un giornalista normale gli dice non solo la lentezza per i 25 mila euro, ma perché soltanto l'1% delle 5 milioni di aziende che arrivano a 5 milioni che potrebbero prendere questi prestiti non li chiedono, secondo quel genio di travaglio e di conte? Ma poi, stupenda, stupenda, è insoddisfatto della conferenza stampa che ha fatto l'altra sera quando ci consentiva, ci diceva, parlava di 11 mila, guarda, insoddisfatto! Cioè, la grande giornalista della schiena dritta che cosa chiede a Conte? Se è insoddisfatto della sua conferenza stampa, ma chi se ne frega della conferenza stampa? L'importante sono i contenuti, ci arriva anche un bambino, il decreto che non c'è, i soldi che non arrivano, le leggi fatte col culo, no, il problema è se lui è insoddisfatto. Sapete qual è la risposta di Conte? Vi giuro, ero molto stanco, erano giorni che ero sotto stress, mi ero scordato di pranzare, sono stato poco brillante, sono stato poco brillante, in un'intervista in cui deve annunciare la fase 2, il problema è che lui è poco brillante, ma si dia un po' di brillantina con Casalino, ma questo è il tema, sono stato poco brillante, la domanda la fa Travaglio, Travaglio e se la fa andare questa risposta. Poi neanche discutiamo sull'ultima domanda che riguarda il caso Bonafete, che ve lo vorrei ricordare, è una cosa molto semplice, l'eroe antimafia, secondo me non è tale, Di Matteo che è fissato con la trattativa Stato, mafia, insomma, gli viene offerto di fare il numero uno del DAP che è l'unico ruolo importante perché dà 300 mila euro, ti fa guidare 30 mila poliziotti, ti fa fare appalti per 2 miliardi, ti dà un ruolo importantissimo nel controllo delle carceri, insomma, lo chiama a Di Matteo e gli dice, senti Di Matteo, vuoi fare il capo del DAP oppure, semmai, degli affari penali, Di Matteo gli dice, sì, lo voglio fare il giorno dopo, ma Bonafete dice, mi spiace, ho già nominato Basentini, Di Matteo se la prende e dice in un'intervista che oggi fa anche a Repubblica, a Liana Milella, vi consiglio di leggerla, dice, beh, insomma, nel frattempo però c'erano stati tutti quanti boss mafiosi che erano contrari alla mia nomina, qualcuno è intervenuto, ribadisce oggi Di Matteo, in questo pasticcio in cui Di Matteo doveva fare il capo del DAP, il ministro Bonafede non lo fa capo del DAP, ministro Bonafede che era assistente proprio di Conte ed è portavoce del Movimento 5 Stelle all'interno del governo, a Conte gli si chiede, ma di questa roba di Bonafede che ne pensa? E lui mi dice, e avevano dato a Di Matteo un ruolo importante che era quello di Falcone, questo mi aveva detto Bonafede e secondo me era una cosa importante. falso, falso, strafalso, come sanno tutti al ministero, 180 mila euro il ruolo di Falcone, 300 mila euro quello del DAP, voi dite, ma straisci i soldi? No, non straisci i soldi perché è una direzione importantissima, l'altra è una direzione che è stata completamente depotenziata, quella che ebbe Falcone vent'anni fa, perché con la Bassanini in realtà è sotto un'altra direzione, quindi conta zero. E Di Matteo, oggi in un'intervista a Liana Milella su Repubblica, che cosa dice? Dice, ho visto insultata la mia dignità. Vedete, io non credo che Bonafede si sia fatto condizionare dai boss mafiosi, io credo che però questo marciume ideologico che c'è tra giustizialisti della minchia all'interno del Movimento 5 Stelle oggi è emersa completamente e quando Travaglio, che è il capo dei giustizialisti, fa la domanda a Conte, si accontenta di farsi dire da Conte una bugia e cioè che avrebbe preso il posto di Falcone Di Matteo. Va bene, questa è la storia, vi ho parlato che dovete leggere assolutamente l'intervista incredibile di Bonafede appunto alla Liana Milella, scusatemi di Di Matteo a Liana Milella perché è un'intervista in cui ci sono mille cose divertenti con questo magistrato che insomma devo dire che per carità mai a toccare, sembra una specie di padre eterno ma comunque così sarà. A proposito di toghe, il titolo più bello lo fa oggi MF sulle toghe rosse, non perché siano comunista ma perché siano le toghe della alta corte di giustizia, corte costituzionale tedesca, sono tutte vestite di rosso, oggi sono le foto su tutte le pagine, ieri soltanto Libero con l'avvocato Rossello aveva colto l'importanza della sentenza che sarebbe arrivata in Germania perché la Germania ha messo in discussione il quantitative easing di Draghi e oggi le tonghe rosse contro l'euro è il titolo migliore di MF, cioè i giudici tedeschi dicono che la BCE non può comprare i titoli di Stato, italiani, francesi, tedeschi, come sta facendo? È una sentenza micidiale che come dice Masciandaro oggi sul sole 24 ore, dai tedeschi entrata a gambe tesa sull'eredità di Draghi. Io prendo Masciandaro su tutti i commenti perché non vorrei che venisse considerata, poi c'è un'intervista di Milinswaghi, ci sono tantissimi pezzi, ma il punto fondamentale è, e questo vale per il MES, vale per gli aiuti europei, che c'è un principio di fondo che i tedeschi non vogliono avere nessun atteggiamento mutualistico, soprattutto una certa classe dirigente, le leggi, i suoi manager più importanti nei confronti di noi spendaccioni che, devo dire la verità, gli diamo anche qualche, come possiamo dire, adito ad essere gli spendaccioni, se noi adesso facciamo un deficit di 55 miliardi per fare reddito d'emergenza, per aumentare il reddito di cittadinanza, per dare le mancette elettorali e non riusciamo a dare invece una grande infrastruttura a questo paese con spesa pubblica, rivolta a infrastrutture, investimenti d'aziende, quelli là dicono, ragazzi, voi non è che potete continuare a dare 14 miliardi di cassa integrazione ogni anno, allora, che la Germania non ami l'Europa, fatta anche in maniera mutualistica, è un fatto, che i giudici tedeschi diano una botta all'euro, è un fatto, ma che noi italiani, magari, forse, nel futuro potremmo essere un pochino più attenti come spendere soldi, è un altro fatto, certo che ce lo dicono i giudici tedeschi, è molto seccante, converrebbe che un'opposizione lo facesse. All'interno di questo casino, però, c'è un elemento positivo, perché oggi ho letto l'intervista di Fraccaro, silenzioso ministro dei grillini, sottosegretario dei grillini a Palazzo Chigi, insomma, questa roba che oggi annuncia il sole 24 ore, questa sì che sarebbe una manovra strutturale incredibile, cioè il credito d'imposta al 110%, cioè ti danno uno sconto fiscale superiore a quanto è pagato se fai ristrutturazioni edilizie che migliorano l'antisismicità della vostra casa e il consumo elettrico energetico. Insomma, questa roba qui, cioè arrivare dal 60 attuale al 110%, se resa semplice e facile, con tutta una serie di accorgimenti che stanno studiando, questo davvero serve all'edilizia privata. Intervista a Di Maio oggi su Corriere della Sera, ve la segnalo, in cui dice che noi siamo amici dei cinesi, però siamo solidi nel patto atlantico, anche tutti e due le cose cercano di mettere insieme. Poi l'altra cosa fantastica è che il Corriere della Sera ci racconta che ha preso in mano il dossier del calcio, Conte, scusatemi il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, ma il Fatto di Quotidiano, l'intervista Conte, gli dice che ha preso in mano il dossier del calcio e non gli dice quello che dopo tre pagine c'è scritto sempre sul Fatto Quotidiano, ma c'è scritto anche in tutti gli altri giornali, che sapete chi sarà l'avvocato della Lega Calcio per fare le trattative con Sky, insomma il grande avvocato della Lega Calcio, chi ha preso? Ha preso, pensate un po' voi, Guido Alpa, il maestro di Conte, cioè Conte c'è il dossier del calcio e chi si occupa del calcio? Guido Alpa. Soltanto io metto insieme Pine ed Eppo o forse qualcun altro potrebbe mettere insieme Alpa e Conte che discutono il dossier del calcio dopo che avevano lo studio insieme, hanno lavorato insieme. Questa roba qua ovviamente al fatto non risulta, ma anche gli altri giornali non risulta. Grande professionista Alpa, non c'è dubbio, grande uomo di cultura o di letture, come dice Conte di se stesso, però insomma ragazzi che il suo avvocato e il discepolo discutono di una cosa importante come il calcio, sono contento per il calcio, ma forse un po' meno per quelli che un tempo i grillini chiamavano il conflitto di interesse, ma saranno finiti. E poi Repubblica fa un pezzo fantastico che vi consiglio, una Repubblica cambiata completamente, ma fa quello che avrebbe dovuto fare forse il fatto nei giorni scorsi. Sapete quanti mafiosi sono usciti dal carcere grazie a queste norme assurde fatte da buona fede, interpretate male dai tribunali? 376 mafiosi e trafficanti a casa, 376. All'anima del fantastico ancora oggi, ancora Repubblica, mi spiace oggi parlo soltanto di Repubblica, l'inchiesta che continua a fare Repubblica ha fatto una cosa molto semplice, come fece ieri Belpietro, e cioè è andato a vedere in tutte le città italiane quali farmacie vendono le mascherine a 50 centesimi, insomma praticamente nessuna. In realtà poi sono 50 centesimi più IVA, quindi 50 centesimi più IVA, più il 22%, perché mi sembra che sia rimasta il 22%, fa 61 centesimi. Non lo so, io poi dopo magari questa cosa dell'IVA l'ho male interpretata, però il prezzo delle mascherine a 61 centesimi, il prezzo calminato da quel genio del Der Commissario Falco Arcuri, beh insomma fa sì che dopo che ho fissato il prezzo le mascherine in giro non ci siano. Appuntamento come sempre domani con la zuppa di Porro e sul sito nicolaporro.it per tutte le altre informazioni su questa giornata, tra cui quella sulla Bella Nova da controllare e vedere. Ciao!